Dopo una domenica di relativo riposo la struttura societaria del Campobasso di nuovo all'opera per l'allestimento dell'organico che dovrà debuttare in serie C fra qualche mese. Un lavoro senza soluzioni di continuità ma soprattutto silente e senza proclami con idee e situazioni definite e chiare. Negli ultimi giorni la società ha già ottenuto gran parte delle liberatorie da parte dei tesserati. Rimane da sistemare qualche situazione sporadica all'interno dell'organico. Capitolo riconferme secondo fonti affidabili entro questa settimana uno fra i primi a proseguire ufficialmente il rapporto con il Campobasso dovrebbe essere l'attaccante Mattia Rossetti atteso fra qualche giorno nel capoluogo. Si lavora anche sul fronte Juniors e già da un anno e mezzo a questa parte che sta valendo la sinergia fra prima squadra e settore giovanile. Si vedano i casi virtuosi di Martino, Fruscella, lo stesso Mancini per fare qualche esempio. Pare che la società Rosso Blu sia orientata ad inserire nei ranghi della Juniors il Campobassano Roberto Barrea negli ultimi tre anni preparatore atletico della Vastese. Il gradimento esiste da entrambe le parti ed in questo senso si dovrebbe attendere solo la notizia ufficiale. Per giovedì prossimo dovrebbe essere in programma un raduno di Under dal 2004 in giù presso lo stadio di Selva Piana proprio nell'ottica di visionare ragazzi di prospettiva per la Juniors. Riguardo lo stadio volgono al termine i lavori che porteranno la capienza della struttura fino a 7500 spettatori. Per quanto riguarda l'altra tranche di opere che porteranno all'installazione delle zone di prefiltraggio e dei tornelli il relativo progetto è stato approvato. Lo stanziamento di risorse esiste e adesso l'iter amministrativo dovrà essere portato a compimento prima dell'inizio dei lavori stessi che dovranno incrementare maggiormente l'attuale capienza di Selva Piana. Pianeta Lega Pro in fermento per le iscrizioni ma non solo. A Foggia ha destato curiosità ed interesse in seno alla tifoseria. Il ritorno di Zenec Zeman per il suo quarto capitolo in Puglia. Il boemo presentato con gli onori del caso dal presidente canonico certamente può essere una base di partenza per un campionato ambizioso del Foggia. Poi il campo parlerà. Giornata importante a Catania. I pareri sono tanti. Secondo molti cronisti al Catania converrebbe fallire a zerare la pesante situazione debitoria e ripartire dalla Serie D con una nuova società pulita. Altre fonti parlano di una mancanza di 180 mila euro all'appello per l'iscrizione in Serie C. Entro qualche ora sapremo se il Catania sarà in grado di iscriversi o meno al prossimo campionato di Lega Pro con il saldo passivo attuale che è abbastanza ingente.